Sono 16.22 del 25 febbraio 2024, quando dice Ginebri, stengo imbrattato a mezzo di Ginebri. Sapete qual è la mia tecnica? Mi faccio l'arga, poi piedi, guardate, io metto il piede così, con la mano, e qui più avanti, a 30 metri c'è la strada. Poi, per evitare che il Ginebri sia tutti gli aghi, te punce, bisogna procedere di lato, così, acciucarsi, ecco qui, vedete, vado dietro, dietro, se non si fa così, si è rimane indoppato. Ecco qui, mi sono liberato, vedete qui, qui praticamente è più libero. E questa è la strada, questa è la strada che attraverso il parco di San Leonardo, più avanti c'è, il compine con il comune di Glamazzi, ma qua una volta c'era un pozzo, non so se mi ricordo.